Mi aspetto che il Governo riservi al Molise lo stesso trattamento che ha riservato per il terremoto che ha colpito Ischia. Così si è espresso il Presidente della Regione Donato, Toma, neocommissario delegato alla ricostruzione. Il Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha emanato l'ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il Medio Basso Molise tra il 14 e il 16 agosto scorso. Al Presidente della Regione Donato, Toma, nominato commissario delegato alla ricostruzione, spetterà il compito di predisporre nel giro di 30 giorni un piano di interventi da sottoporre all'approvazione del Capo Dipartimento. Questa mattina a Palazzo Vitale, un primo vertice con i tecnici della Protezione Civile, inserato a un incontro già fissato a Montecirfone, epicentro del sisma, con i sindaci del territorio per illustrare i dettagli dell'ordinanza. L'obiettivo prioritario è togliere il prima possibile le persone che, dalle ore successive alle scosse, a causa della inagibilità delle abitazioni, hanno trovato ospitalità all'interno delle tendopoli allestite dalla Protezione Civile. A tale scopo l'ordinanza dispone la concessione dei contributi di autonoma sistemazione che variano a seconda del numero dei componenti di un determinato nucleo familiare, che spettano però solo ai proprietari di abitazioni distrutte in tutto e in parte e sgomberate in esecuzione dei provvedimenti emanati dalle autorità competenti. Resta l'incognita e relazionale copertura economica necessaria per fronteggiare lo stato di emergenza. Al momento sono 2 milioni di euro già stanziati per i primi interventi, fondi che però non sono sufficienti, tanto meno per attuare gli interventi di messa in sicurezza degli immobili a rischio. Il governatore Tom ha chiesto che al Molise venga riservato il medesimo trattamento che è stato riservato al sisma di Ischia. Io in realtà mi aspetto che il governo prenda in considerazione il piano degli interventi da redigere entro 30 giorni per stanziare poi gli ulteriori fondi di cui abbiamo la necessità, caso mai ce ne volessero, ma da una prima previsione ce ne vorranno. Quanti? Non sono in grado di dirlo adesso. Noi avevamo quantificato 4 milioni di euro e penso che 4 milioni di euro era la cifra congrua per le prime necessità. Ce ne hanno assegnati due, io ritengo perché in quel momento c'era una disponibilità per quella cifra, ma ho avuto incassato l'assicurazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Capo della Protezione Civile che il Molise non verrà lasciato da solo e quindi mi aspetto che avvenga come per Ischia. Per Ischia furono stanziati prima a 5 milioni di euro e poi si è arrivato a circa 32 milioni di euro. L'autonoma sistemazione è la prima necessità per le famiglie sfollate. Il dato esatto delle persone che oggi sono fuori dalle loro abitazioni principali, uniche abitazioni, la Regione sa qual è? Guardi, mi è arrivato il report stamattina, ogni mattina mi arriva il report, però è un report sulle tendopoli, su qualche centinaio di persone che ancora sta in tendopoli, ma non è quello il dato esatto delle persone che hanno bisogno dell'autonoma sistemazione, perché noi abbiamo persone che non possono rientrare nelle loro abitazioni, ma che hanno trovato un'autonoma sistemazione presso un parente, presso un familiare. Noi dobbiamo dare un contributo economico perché possano queste persone organizzarsi autonomamente, senza gravare su altre famiglie e senza andare a creare situazioni di sovraffollamento residenziale.